Il comandante della Polizia Locale di Battipaglia, Gerardo Iuliano, dirigente della Macrostruttura del Corpo di Polizia Locale e dei Servizi Demografici, è stato nominato dalla sindaca Cecilia Francese, vice segretario del Comune di Battipaglia. Si tratta di una nomina temporanea per sostituire la segretaria generale del Comune di Battipaglia, Clara Curto. Iuliano ricoprerà le funzioni di segretario vicario dal 16 agosto al 26 agosto 2022. L'incarico non graverà sulle casse comunali, poiché non è previsto alcun compenso aggiuntivo. Nei giorni scorsi, dopo un accordo tra le parti, era stato deciso che la dottoressa Curto non avrebbe continuato a svolgere le funzioni di segretaria generale del Comune di Battipaglia. Nel frattempo è stato preparato il bando per reperire il nuovo segretario generale del Comune di Battipaglia.